Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi continua la serie in cui andiamo a vedere le postazioni dei vari streamer. Oggi tocca a Xuder che ha un setup molto particolare, anzi ha due setup, quindi andremo a vedere sia il primo setup con tutte le periferiche, sia il secondo setup e relative periferiche. Tengo a precisare prima di iniziare che le periferiche sono quelle attuali, quindi se vedete il video fra qualche mese magari qualcosa può essere cambiato. Ma iniziamo subito col pc della seconda sala gaming, quella più nuova, e con il pc più performante. Questo pc lo utilizza sia per streamare sia per giocare, infatti è un pc molto potente e con tutti gli ultimi componenti usciti. Partiamo subito con il processore che come vedete è un Ryzen 9 5900X e su questo c'è poco da dire, è uno dei top di gamma e penso che abbia scelto appunto AMD perché va a streamare e giocare con lo stesso pc. Come scheda video ha una RTX 3080, questa è quella raffreddata a liquido perché lui è una custom loop che va a raffreddare tutto il pc e che raffredda ovviamente anche questa scheda video. Abbiamo ovviamente una scheda madre anch'essa top di gamma, la X570 di Aorus, ovviamente per AMD, che oltre ad essere top di gamma è anche bellissima. Utilizza Aorus anche per quanto riguarda le RAM, ha scelto queste da 4400MHz e ne utilizza 4 banche da 8GB, per un totale ovviamente di 32GB. RAM molto performanti e anche molto belle perché hanno appunto la serie RGB. Faccio una piccola parentesi dicendo che non esprimo tantissimi giudizi su questi componenti perché ovviamente stiamo parlando di pc estremamente top di gamma e quindi c'è poco da dire se non che sono fra i componenti migliori attualmente presenti sul mercato. Inoltre è stato assemblato da professionisti, molto esperti ovviamente in questo settore. Lui utilizza il pc a vista o se si vede nel background delle sue live e ha preso questo bellissimo case che non vi consiglio se siete poco esperti perché secondo me è abbastanza difficile farci il cable management e in generale applicare tutti i componenti. Però è sicuramente un case spettacolare che come vedete ha un po' lo stile futuristico, un po' Transformers con tutti i componenti ovviamente a vista. Come vi dicevo non c'è il sistema di raffreddamento perché lui ha una custom loop, quindi un sistema di raffreddamento personalizzato che è stato realizzato dai ragazzi che gli hanno assemblato il pc per rendere tutto più spettacolare. È molto bello da vedere. Passiamo quindi alle periferiche della prima postazione partendo dalla webcam. Utilizza la Sony Alpha 6400, anch'essa ottima cam che utilizzano praticamente tutti insieme alla 6600. Continuiamo quindi con la tastiera che penso sia l'unica cosa del suo setup che non mi piace molto. Stiamo parlando della Fnatic Mini Streak, una tastiera di super qualità che però come design e come forma non mi piace molto, anche se ovviamente è un parere completamente soggettivo. Come mouse invece utilizza quello che è il miglior mouse attualmente in commercio, ossia il Logitech G Pro X Super Lite, un mouse wireless con latenza 0 e che è utilizzato per queste ragioni della maggior parte dei pro player. E il fatto che sia wireless, unito ad uno dei migliori sensori attualmente in commercio, fa sì che è veramente comodo per tutti quelli che giocano. Stesso vale per le cuffie che si affida sempre al Logitech con le G Pro X, cuffie di altissima qualità che vi consiglio anche a voi personalmente perché se non avete un microfono hanno un ottimo microfono integrato della Blue che è veramente un'ottima marca. Passiamo ora al microfono principale che è un microfono molto molto particolare, che è tra i migliori microfoni, ma a differenza del classico microfono Shure che ha nell'altra postazione e che utilizzano tutti gli streamer, questo è un microfono multi-partner, ossia un microfono che può essere adattato alle esigenze. Come vedete qui ci sono tutti i partner di cui dispone, sono quasi sicuro che Xuder lo utilizza in modalità cardioide, che è la migliore modalità quando si parla davanti al microfono, ed è un microfono ovviamente XRL che va attaccato a un'apposita scheda audio che ora andiamo a vedere e come sentite restituisce davvero un'ottima qualità. Questo microfono e tutti gli ingressi audio sono gestiti dal Go XRL Mini, un mixer super utilizzato perché è davvero comodo, consente di gestire le tracce audio singolarmente e per chi fa streaming è davvero una cosa speciale. Concludiamo quindi con il monitor che è un G7 Odyssey, lui dice di avere solo questo monitor, ma so che ha due monitor, c'è uno per giocare e uno per la chat, sono quasi sicuro che questo sia per giocare, non so per la chat cosa utilizzi o se ne utilizza un altro uguale. Nonostante ciò questo per giocare è davvero ottimo, un po' grande perché è un 27 pollici, ma è un 240Hz con un millisecondo di risposta, quindi uno schermo top, tutto giustificato dal prezzo a cui è venduto. Finita la prima postazione passiamo alla seconda, questa è molto interessante perché può essere come spunto per molti di voi, poiché essendo una postazione un po' più vecchia, è una postazione di fascia di prezzo inferiore, ma con ottime prestazioni, infatti lui con questa riesce a giocare e anche streamare. Lui utilizza un i9 7980XE, mi raccomando non compratelo attualmente a questo prezzo, che è un prezzo esorbitante che non ha senso. Tutto accompagnato dalla GeForce GTX 1080 Ti, una scheda grafica veramente top, anche se di qualche anno fa ma ancora performa benissimo. È una scheda video che vi consiglio, ma se riuscite ad andare su una 2070 che sta circa sullo stesso prezzo, che è migliore sia a livello di consumi, sia potete utilizzare ovviamente la tecnologia RTX. Come scheda madre utilizza la X299 Pro ATX, un'ottima scheda madre anche se un po' particolare perché non so chi di voi utilizzerà mai 8 ingressi per le RAM, io ovviamente è una scheda madre per Intel. Come RAM utilizza le XPG Spectrix da 3000 MHz, queste non ve le consiglio perché sono un po' lentine per il momento e non sono nemmeno disponibili. Come case, non bello come il precedente, ma un case utilizzatissimo, super bello e funzionale, che è il Cooler Master H500P, un case che consiglio a tutti perché è bello da vedere, facile da montare e di ottima qualità. Come CAM utilizza la Sony Alpha 6500, molto simile alla precedente. Tessa tastiera, mouse molto simile, semplicemente il modello precedente, anche se vi consiglio appunto questo che è quello precedente perché costa meno, nonostante sia più nuovo. Stesse cuffie e questa volta invece troviamo il microfono Sure, microfono che ormai sapete utilizzatissimo da tutti, un microfono dinamico di altissima qualità, utilizzato in qualsiasi podcast e in qualsiasi streaming, veramente di ottima qualità. Sinceramente, vista la differenza di prezzo, vi consiglio molto di più questo che l'un l'altro che utilizza nell'altra sala. È tutto collegato sempre al GUXRL Mini. Concludiamo con il monitor che non mi piace molto ed è il G24C di MSI, questa volta a 24 pollici ed è 144 Hz. Questa era tutta la postazione di Xuder, spero che il video vi sia piaciuto, per qualsiasi domanda fatemela pure qui sui commenti. Come vi dicevo queste sono tutte le componenti che utilizza oggi, sicuramente in futuro le cambierà. Ascrivetemi qui sotto di quale streamer volete la postazione, in modo da vederla ed analizzarla insieme. E noi ci vediamo presto in un nuovo video.